Buongiorno a tutti, oggi qui con noi il dottor Giancarlo Romagnuolo, che da sempre ha fatto parte del team SICOR. Ci spiegherà il concetto di digitalizzazione in ambito odontoiatrico. Di cosa parliamo quando alludiamo all'odontoiatria digitale? L'argomento è un argomento che per certi aspetti è abbastanza intuibile, ma c'è da parlare tanto. Noi cercheremo in questo percorso fatto di più appuntamenti, oggi di introdurre i concetti proprio essenziali del nuovo modo di lavorare e quello che sarà il futuro dell'odontoiatria dal punto di vista digitale. Negli appuntamenti successivi prenderemo ogni aspetto singolarmente per far sì che tutto questo venga compreso in maniera estremamente semplice, che sia alla portata di tutti e che se ne possano comprendere i vantaggi nell'operare in questa direzione. Per odontoiatria digitale possiamo parlare da quello che è già accaduto tempo addietro. Se ricordiamo il nostro modo di lavorare anche in segreteria, le cartelle cliniche dei pazienti cartaceo e lo schedario cartaceo, siamo passati tutti ad un archivio digitale, quindi cartelline digitali, software gestionali e abbiamo fatto tutti questo passo all'inizio con fatica e oggi lo diamo per scontato e non riusciremo a fare il passo indietro. Idem se pensiamo alle immagini che per Antonos Masia sono le immagini radiologiche dell'odontoiatra, cioè le radiografie endorali, siamo passati da quelle analogiche che richiedevano lo sviluppo nei liquidi fino alle radiografie endorali digitali che oggi rappresentano direi lo standard in qualsiasi studio odontoiatrico e per finire alla fotografia, la fotografia che oggi viene realizzata in maniera digitale e che accompagna il nostro lavoro con la documentazione dei casi ma in maniera molto più pratica, veloce e allo stesso tempo qualitativamente valida. Quindi da un punto di vista digitale abbiamo già iniziato questo percorso nel quale ci siamo tutti, ma alcuni aspetti importanti non sono stati ancora considerati dalla maggior parte degli operatori odontoiatri, in quanto ad esempio concetti come il passaggio ad una radiologia bidimensionale, a quella tridimensionale con l'introduzione di apparecchiature tecnologicamente avanzate che consentono di fare esami tridimensionali chiamati CBCT, sono tomografie computerizzate con tecnologia a fascio di cono che forniscono uno strumento molto importante per lo studio odontoiatrico, senza dover ricorrere a esami tridimensionali quali le convenzionali TAC o TC, tomografie computerizzate, che avevano lo stesso un alto valore diagnostico ma a paziente davano una quantità di radiazioni nettamente superiore a ciò che oggi è possibile con i nuovi apparecchi. Un'altra grande innovazione in termini digitali può essere considerata l'introduzione di scanner intraorali, che sono degli strumenti che rilevano il dato delle arcate dentarie in maniera digitale e non più in maniera analogica, con innumerevoli vantaggi sotto tanti punti di vista che andremo ad analizzare uno alla volta. Quest'evoluzione attuale soprattutto è molto diffusa? È stata un'evoluzione inevitabile perché negli ultimi decenni in qualunque settore, non solo dell'odontoiatria, tutti i settori sono stati caratterizzati dalla velocizzazione dei processi. Tutto questo ha portato ad una modalità di lavorare in maniera più veloce mantenendo gli elevati standard qualitativi. In un ambito di eccellenza sostenibile nel quale crediamo e lavoriamo direi che questo aspetto si rafforza ancora l'eccellenza sostenibile perché è una modalità di lavoro che ottimizza le procedure mantenendo elevati gli standard qualitativi, purtroppo per riferirmi alla domanda, non è molto diffusa, nel senso che il 6% degli operatori in odontoiatri non utilizza le metodiche CAT-CAM e COMBIN. Ma prima ancora di parlare di queste metodiche vorrei fare dei ceni al concetto di digitalizzazione, visto che nella domanda mi era stato fatto. Da tempo abbiamo già assistito a cambiamenti del modo di lavorare attraverso ad esempio la digitalizzazione delle cartelle cliniche. Siamo partati da cartelle cliniche cartacee a software gestionali che hanno digitalizzato questo dato consentendo di lavorare in maniera più veloce e più efficace. Questo all'inizio ha rappresentato un passaggio difficile per chi era abituato in un certo modo. Pensiamo anche solo alla radiologia endorale che allo stesso modo è stata sostituita dalla radiologia endorale digitale. Pensiamo anche solo alla fotografia, strumento che per noi ha sempre fatto parte della documentazione fotografica e che oggi è digitale, ma come se fosse da sempre così. Quindi questo passaggio sicuramente è un passaggio che è impegnativo per chi lo deve fare, ma i benefici e i vantaggi che se ne traggono una volta che si è all'interno, quindi si è superata la curva di apprendimento, sono innumerevoli e di questo andremo a parlare passo passo. Quello che è il punto essenziale della digitalizzazione è l'introduzione di strumenti nuovi che hanno consentito all'odontoiatra di acquisire alla poltrona, quindi sul paziente, il dato sul quale noi lavoriamo alle arcate dentarie in maniera digitale e non più in maniera analogica con le impronte e con i modelli in gesso. Quindi direi che siamo di fronte ad una vera innovazione? La vera innovazione riguarda l'introduzione di attrezzature specifiche come gli scanner intraorali e gli apparecchi radiologici con BIM che consentono di effettuare degli esami radiologici tridimensionali, quindi non più bidimensionali come la radiologia endorale e l'ortopanoramica, ma consentono di avere immagini tridimensionali come era possibile solo con le tomografie computerizzate, con il vantaggio di avere apparecchiature utilizzabili in studio con una emissione di radiazioni più basse e per cui consentirne un utilizzo anche solo per fini diagnostici e di pianificazione di trattamento. Poco fa appunto ha citato il termine di eccellenza sostenibile, quindi mi chiedo se può appunto spiegare quali siano i vantaggi del concetto di digitalizzazione attraverso l'eccellenza sostenibile. Allora, i vantaggi possono essere semplificati innanzitutto in termini di fedeltà dei dati, facile archiviazione, possibilità di modifica dei dati, facile comunicazione con parti esterne come laboratori odontotecnici e anche una innovativa comunicazione con il paziente che dispone di strumenti digitali nella sua vita attraverso i quali possiamo comunicare con lui, sia con le fotografie, sia con quanto stiamo facendo in ambito strettamente odontoiatico, che sia la pianificazione di una terapia ortodontica con allineatori trasparenti, che è una procedura digitale, sia per quanto stiamo facendo, abbiamo già fatto in ambito protesico attraverso appunto l'utilizzo di un flusso di lavoro digitale. Bene, potrebbe farci degli esempi di argomenti di cui parleremo poi in futuro? Gli argomenti che affronteremo in futuro saranno diversi e partiranno sicuramente dall'acquisizione del dato digitale di parti del cavorale o delle intere arcate che consentirà di essere alla portata di terapie anche rutinarie all'interno di uno studio odontoiatico, come finalizzare un elemento dentario trattato endodonticamente e in maniera conservativa con la finalizzazione protesica o con un intarsio o con una corona eseguita da un componente dello staff odontoiatico o anche dal personale ausiliario che potrà semplicemente anche colorare e finalizzare una corona in maniera estremamente semplice e vedremo anche come farlo. Da qui passeremo a procedure leggermente più elaborate, come ad esempio la realizzazione di più manufatti insieme oppure la gestione di urgenze odontoiatriche con casi specifici e dimostrando step by step come è possibile risolvere velocemente dei casi senza dover ricorrere a procedure complicate. In ultimo l'aspetto più interessante per gli utilizzatori che nel tempo avranno avuto modo di esercitarsi e di prendere confidenza con i sistemi, quello che rappresenta il fiore all'occhiello, cioè l'integrazione tra la tecnologia CAT-CAM e la radiologia 3D si praticamente unisce in un concetto che è quello del paziente virtuale. Attraverso l'integrazione di queste due tecnologie avremo l'espressione massima di poter pianificare una riabilitazione implantare protesicamente guidata fino alla realizzazione di una dima chirurgica in studio. Ringraziamo il dottor Romagnolo, grazie dottore. Grazie, alla prossima. È stato gentilissimo e continueremo poi a parlare in modo più approfondito appunto di questa innovazione odontoiatrica nella prossima sessione.